Caterina Chignici è la candidata del campo progressista, una sorta di centro-sinistra allargato ai 5 Stelle per la corsa alla poltrona di presidente della regione. Lo hanno sancito alle primarie di sabato scorso. La figlia del magistrato ucciso dalla mafia nel 1983 ed ex procuratore minorile di Caltanissetta ha ottenuto 14.552 voti totali, superando Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle che ha ottenuto 10.317 voti e Claudio Fava con 7.547 preferenze. A Caltanissetta si sono registrate polemiche sulla scelta di molti iscritti del Partito Democratico di non partecipare alle primarie, in quanto, a dire di chi ha protestato, la scelta del candidato, appunto la stessa Chignici, sarebbe di fatto stata imposta dai vertici regionali del partito, senza tenere conto della base. In ogni caso, anche nella provincia nissena, Caterina Chignici ha ottenuto il maggior numero di preferenze, anche se non in tutti i comuni, è risultata la più votata, come ad esempio nel capoluogo stesso, dove Barbara Floridia ha ottenuto 208 preferenze contro le 144 di Fava e le 59 della stessa Chignici. A San Cataldo un dato simile, con Fava che ha ottenuto 61 preferenze rispetto alle 59 di Chignici e Floridia. A Gela, invece, l'ex procuratore minorile di Caltanissetta ed ex assessore dell'Aggiunta regionale Lombardo, è risultata la più votata con 506 voti, contro i 465 di Floridia e i 388 di Fava.